Poche ore dopo l'anatema del cardinale Sepe contro la Napoli modello Amsterdam, in rete già circolava la replica stizzita del sindaco De Magistris. Un attacco politico, quello dell'arcivescovo, secondo l'ex PM, che è subito passato al contraattacco colpendo sotto la cinta color porpora. Il sindaco ha sfrogoliato il prelato, rispolverando l'inchiesta sulla cosiddetta Cricca e le case della propaganda FIDE, gestita dal 2001 al 2006 proprio da Crescenzio Sepe. La replica del sindaco però è sembrata eccessiva non solo a chi bazzica in ambienti vicini alla chiesa. Un turbine di critiche e attacchi si è scatenato contro De Magistris e la sua giunta. Il quotidiano di ispirazione cattolica a venire bolla come doppio autogol l'uscita del sindaco di Napoli, che con questa storia rischia di perdere la faccia. Ma è da Palazzo Santa Lucia che arriva una presa di posizione in attesa. Il governatore della campagna Stefano Caldoro, criticato da più parti per la sua eccessiva vicinanza a De Magistris, si è schierato al fianco del cardinale Crescenzio Sepe. Giudica come un'aggressione immotivata e violenta l'uscita del sindaco il presidente dell'Udc Rocco Buttiglione, mentre il Consiglio Comunale sembra spaccato sull'argomento. A difesa dei De Magistris, oltre al vice sindaco sodano, si è schierato anche il partito dell'Italia dei Valori. Ci sono tutti gli ingredienti per far sì che il polverone mediatico continui a trattenere l'opinione pubblica napoletana ancora per qualche giorno, se non qualche settimana, almeno fino al giorno di San Gennaro, quando De Magistris sarà chiamato nel Duomo per partecipare alla celebrazione del miracolo. L'anno scorso baciò la teca con il sangue, quest'anno chissà. San Patrizia li ha fatti litigare, magari San Gennaro farà il miracolo e li farà riappacificare.